Ciao, sono Flavio Cannistra, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta e studio da anni le terapie brevi. Ho aperto questo canale proprio per parlare di questo argomento, di autori, trend, news e tutto quello che sta succedendo e che è successo nell'ambito delle terapie brevi. Se ti interessa l'argomento ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, a seguire la mia pagina Facebook Flavio Cannistra Terapia Breve e ovviamente a partecipare con idee, discussioni, riflessioni e quant'altro, in modo che potremo avere degli scambi insieme sull'argomento delle terapie brevi. Ciao!